Diciamo che continuerà questa fase di tempo instabile e dalle temperature ai caratteri invernali a causa della presenza di questo votice depressionario che continuerà a insistere per gran parte della settimana sulla nostra penisola, richiamando correnti di aria fredda di origine artica. Quindi anche nei prossimi giorni avremo un'alternanza di schiarite ad annuvolamenti a tratti anche intensi, specie nella giornata di domani e poi a seguire anche nelle giornate di giovedì e venerdì. In questa fase l'ulteriore flusso di aria fredda determinerà oltre alla pioggia anche la caduta della neve sulla donna stradossale appenninica e sui rilievi medio-alto collinari a partire dai 600-700 metri di quota. Le temperature si manterranno nella medio leggermente al di sotto con clima freddo, specie nei rilievi. Avremo nella giornata odierna, proprio nella serata e nelle prime ore di domani, precipitazioni a carattere piovoso diffuse su gran parte della nostra provincia e anche nell'Anconetano per poi seguire un miglioramento nella giornata di mercoledì e nuove piogge di nuovo dalla serata di giovedì e per gran parte di venerdì.